bentornati amici questo pomeriggio siamo con jeep compass abbiamo installato car tablet android car tablet che va subito in riproduzione di usb originale che recupera come ingresso in più andiamo a mettere quello aggiuntivo cosa fa vi dico subito che come sempre andiamo a recuperare i comandi al volante quindi volumi play pausa avanti indietro quindi sic il tasto muto e sorgente cos'altro facciamo andiamo a sfruttare il navigatore offline quindi mappe precaricate europa e cos'altro ci fa ci dà la visualizzazione nonché la gestione del clima originale quindi assolutamente con i pomelli che ho di serie vado non solo a modificare le temperature ma le uscite d'aria dei bocchettoni tutto da touchscreen quindi integrazione perfetta con la linea digitale canvas del veicolo e lo vediamo anche perché mi integra l'apertura sportelli assolutamente integrato cosa acquisto acquisto in più come funziona il carplay che ad oggi praticamente non può mancare carplay wireless quindi gestione delle mappe della messaggistica delle chiamate della musica sostanzialmente quindi abbiamo le notifiche con musica abbiamo il play store con i servizi di google integrati quindi youtube piuttosto che voglio usare google maps senza interfacciarmi col carplay tutto perfettamente integrato e vi faccio vedere che abbiamo anche aggiunto cosa che non c'era di serie la retrocamera per il parcheggio importantissimo